Perché è importante preoccuparsi e occuparsi del curante? Questa è una riflessione che è nata dopo un certo numero di anni di pratica clinica per quello che mi riguarda perché mi sono reso conto che il sovraccarico di questioni possono bruciare senza scomodare fenomeni già ben descritti come il burnout ma ragionando proprio su quello che è l'atteggiamento delle persone che devono curare è utile analizzare sia in maniera introspettiva che anche in gruppo quindi questa è anche una funzione di chi deve gestire le risorse umane quelle che sono le ricadute, le ferite sono profonde, tendono a lacerare, a squassarci io ho proposto appunto una narrazione di una storia fra curante figlio e curata mamma che ha prodotto delle riflessioni significative che poi sono state anche propositive per il seguito per le altre persone